è la nostra punta di diamante si dice al palio di siena il cavallo va e torna vincitore dopo quando lo si benedice va bene no beh a parte sono un po' arrossito ecco cioè io a sentire a sentire certe parole è una responsabilità grande è una responsabilità grande io ho un mini vantaggio sapete come la penso vale a dire un discorso fumoso perché bisognerà migliorare le condizioni dell'età perché più taglia nell'Europa e più taglia nel mondo così questo tipo vedrete che poi ci sarà più lavoro per le cose così lo fanno tutti quello che penso io penso che qua dentro lo sappiano tutti a mena dito per cui appena appena il l'antidoto contro il famoso cambio di casacca è in quello che che dico vale a dire io sono certo che la volta che io dico beh però ci ho pensato bene l'euro è buono mi ammazzate ma non faccio tempo a entrare nei confini cioè che arriva subito il laser cioè devo devo andare come del luto in libano perché se no ma probabilmente mi venite a prendere anche lì ecco per cui insomma dal mio punto di vista almeno sapete che cosa che cosa avete quindi non voglio quando si fanno i discorsi elettorali che io non avrei mai dovuto pensare di fare non dico a chi la pensa contrario a me no ma guarda che io tutto sommato poi dopo si c'è ragione anche tu no gli dico se a te piace l'euro ti dico che sbagli ma non votarmi ma neanche da lontano perché il mio punto di vista è preciso ora io non voglio sono stato normalmente diciamo virgolette il protagonista di questo basta euro tour perché l'intervento lungo lo facevo io e in tutta italia avete i video potete andare a vedere qualsiasi cosa vi suggerisco in particolar modo quello di torino se volete andare a ripercorrere cosa successe nel 92 quando uscimo da quella prova di euro che fu lo smè dove partendo da articoli che ho letto in quel giorno gli articoli dell'epoca bello di internet che ci sono gli archivi disponibili per tutti si vedeva come prima della svalutazione ci dicevano esattamente le stesse cose che ci dicono adesso e facevano esattamente le stesse cose che fanno adesso all'epoca sono state inventate le tasse sulla casa sono state inventate le tasse sui risparmi sono state si cambiava il nome alle tasse sulla casa ciao fabrizio crepi si cambiava il nome la tasse sulla casa come fanno adesso con la tasi limo e così questo tipo per alzarle progressivamente tutto pur di si cercava di mettere le mani su loro lo diceva monti si cercava di privatizzare qualsiasi cosa ci fosse a privatizzare come se tu sei lì che non non va bene l'impresa privata cioè il mobiliere non vendeva il tavolo e secondo loro io privatizzando le autostrade questo mobiliere avrebbe risolto il suo problema ma cogliete la costante fallacia logica cioè hanno una faccia così di ghisa che si presentano a dire cose che sono totalmente assurde ma così sereni arrivavo qua ho preso l'espresso scusate l'ho rubato non l'ho pagato perché l'ho rubato in in sul treno che era che era una sedia di fianco di fianco al mio io prendo l'editoriale primo arriva l'editoriale di un genio che ha 50 posti in 300 consigli di amministrazione e così via e aspetta vediamo se riesco a trovarlo perché vale vale veramente il prezzo del biglietto anche questo infatti perché lo rubato scusate questo fenomeno innocenzo cipolletta dice tagliare la spesa e crescere lo stesso dico l'ho già sentita questa si chiama austerità espansiva mi sembrava che fosse positivo che era una cazzata però va bene andiamo avanti andiamo avanti a vederlo no questa è una grande idea dice si potrebbe ridurre i trasferimenti e che si fanno per incentivare i trasporti e quindi aumentare di conseguenza le tariffe dei trasporti dico già non mi suona bene io cosa faccio aumento il prezzo del biglietto del treno e del tram no cioè com'è che rilancio la crescita ciò creerebbe una maggiore inflazione che aiuterebbe la crescita del pil di valore ma ma voi vedete no il genio dato che nel pil ci vanno tutti i consumi io ti faccio pagare di più il tram così il pil cresce no ma ma capite come sono messi no e e belli seri no e cresciamo e beh ma scusa ma allora ma raddoppiamo la benzina stanno bene ma noi raddoppiamo raddoppiamo le accise che già ce ne sono poco sulla benzina così invece di pagare 1,70 per il pieno facciamo 4 e sai come cresce il pil con 4 euro alla benzina ma io veramente ma da che parte vengono questi signori è una cosa incredibile il 70 per cento di svalutazione e beh ma ma è ovvio no ma certo ma ma allora io sempre ieri ero una trasmissione dove c'era sempre il quello del pd che di cui si dice prima ma c'era anche vittorio agno letto questo simpatico soggetto no del del no global social forum no e così questo tipo no benissimo allora questo simpatico soggetto a un certo punto diceva che la benzina sarebbe aumentata 70 volte 7 allora io anche aiutandomi dai conti un pochettino più normali fatti dal professor bagnai ma in realtà andavo proprio a mente mi hanno detto viene la lavagnetta dato che va di moda visto la gabbia no se viene la lavagnetta e facci vedere perché la benzina aumenta di poco allora detto guardate sono tutte accise iva così questo tipo costo industriale 30 per cento se svalutiamo del 30 per cento significa che l'aumento è 30 per cento del 30 per cento quindi 9 per cento 1,70 costa la benzina sono 16 centesimi il 9 per cento di 1,60 quindi tutto quello che potrebbe succedere e non è detto perché ripeto in realtà possiamo quelle accise le possiamo tranquillamente tagliare in realtà la svalutazione che ci interessa quella sul dollaro che sarà molto inferiore rispetto a quella nei confronti del marco quindi stiamo parlando proprio di uno scenario assolutamente assurdo in qualsiasi maniera sono 18 sono 16 centesimi no cioè il massimo che andiamo a rischiare no di benzina che l'anno scorso era due e mi ricordo d'estate no il la verde quindi se anche per dire per un breve tempo senza far nulla e senza tagliare le accise quindi cosa che noi possiamo fare va a 1,86 non è che moriremo mi sembra un ben un ben modesto prezzo per avere la libertà 16 centesimi di benzina che che dipendono da noi quindi che possiamo che possiamo tranquillamente tagliare questo simpatico soggetto ha detto ah vedi tu vuoi far pagare di più la benzina agli italiani ha detto ma amico ma te va bene che ti dimezzino il reddito pur e invece non ti va bene il rischio che ti salga di 10 centesimi la benzina ma se il mio reddito è 10 e a causa di questo sistema del cavolo dove anche la tua connivenza mi ha piccato il mio reddito diventa se ciò culo diventa 5 la mia benzina dal mio punto di vista vale 3 40 perché se il mio reddito è 10 e la benzina costa 1 70 se il mio reddito diventa 5 per me la benzina anche se continua a costare 1 70 per me costa 3 40 ci siamo perché è ovvio che i prezzi dal mio punto di vista io li percepisco sulla base del mio stipendio se sottotti qualsiasi cosa che io vedo nel supermercato non mi costa nulla perché è un mega stipendio se sono disoccupato anche le cose anche il pacchetto di cicche mi costa tantissimo quindi la percezione che ho io dell'inflazione delle cose dipende dal mio reddito se il sistema dell'euro uccide il mio reddito l'ultima cosa di cui mi devo preoccupare è l'inflazione perché l'inflazione ce l'ho già perché se il mio salario svanisce i prezzi salgono ed è quello che stiamo sperimentando noi noi non siamo in crisi perché i prezzi stanno salendo delle cose i prezzi della casa scendono pure però se il prezzo della casa scende ma io ho zero reddito per me quella casa risulterà inavvicinabile in ogni caso non solo qual è che cosa mi stanno facendo perdere mi stanno facendo perdere e scendere il valore dei miei risparmi perché tipicamente cosa succede adesso stanno venendo fuori man mano perché adesso le carte si gireranno le aliquote di questa Tasi c'erano sul giornale di oggi date a guardarli le seconde case avranno delle aliquote assolutamente ingestibili per qualsiasi persona che non sia un magnate del petrolio ora se non dico il ricco che se ne sbatte totalmente e come De Benedetti aveva alle case in giro per il mondo e poi dice ah io dichiaro regolarmente tutto ah sì ma le tue case dove sono intestate e società immobiliari ah molto bene quindi non paghi IRAP non paghi IMU non paghi nulla perché c'è la casa in Place Vandomme a Parigi no e così via che ovviamente non paga niente ecco questi signori lasciamo fuori il il ceto medio quello che ha una casetta qui e per caso per coronare il sogno della sua vita si è riuscito a prendere una casettina vicino al mare o in montagna ma proprio una roba minima cioè non sto dicendo che uno debba sognare sogni di gloria cioè a un certo punto la nostra vita è fatta anche di piccoli piaceri una piccola seconda casa è mazzata e allora cosa faccio se io non me la posso permettere perché se io sono disoccupato e mi mettono l'IMU o la TASI a livelli assurdi quella casa io non me la posso permettere vedete il discorso dell'inflazione non mi posso permettere nemmeno la proprietà eh cioè stiamo arrivando a un punto dove diventa un lusso la proprietà e allora e questo capite bene dove va no se comincio a partire dal dal presupposto che la proprietà privata non va bene vedete dove siamo diretti alla famosa è URSS dove non si decide un cavolo la democrazia è seppellita dove tutto deve essere uguale dove la proprietà privata non va bene vedete un po' voi in che bel mondo ci stanno ficcando e allora cosa succede? succede che tu quella casa che non te la puoi più permettere devi venderla ma come un buon economista mi potrà sicuramente confermare nel momento stesso in cui tante persone vendono qualcosa o quantomeno arriva un'offerta aggiuntiva rispetto ai prezzi i prezzi cosa fanno? scendono quindi per ramazzare su qualcosa distruggono ricchezza distruggono valore distruggono i vostri risparmi perché poi se tutti vanno a vendere la seconda casa e nessuno la compra perché ci vuole appunto il nababbo che si può permettere la tassa significa che aumenta incredibilmente l'offerta diminuisce la domanda quando succede questa cosa non può succedere altro che un crollo dei prezzi ci stanno distruggendo anche quello allora noi ci ritroviamo senza e qui scusate mi viene sempre in aiuto questo signore Innocenzo Cipolletta perché attenzione quello che scrivono qua poi fanno cioè quando uno comincia a vedere queste scemenze quando uno diceva la tassa sulle rendite che poi sono i nostri risparmi le cose la tassa sulla casa le leggeva prima qua e poi le fanno qua cosa dice? dice un discorso analogo andrebbe fatto per i trasferimenti ai comuni quindi aboliti i trasferimenti ai comuni quindi ai comuni li tiriamo a zero no? e questi dovrebbero aumentare le tasse locali sulla casa fino alla loro compensazione quindi sta dicendo che in questo momento si paga molto poco sulla casa e che quindi i comuni dovrebbero tassare molto di più sulla casa per pagare i disoccupati per pagare i sussidi di disoccupazione questo è fantastico allora tu abbiamo il problema della disoccupazione non c'è problema noi finanziamo il disoccupato con le tasse della casa quindi il disoccupato con la casa si paga da solo abbiamo abbiamo creato l'autoreddito ma come non averci pensato ma che scemo che sono ho la casa e sono disoccupato mi pago io sono a posto ma capite come siamo messi bene e questi qui sono quelli ascoltatissimi che sulla pagina del giornale dei benedetti prendono l'editoriale e dettano la linea contenti voi cioè io sinceramente dato che abbiamo il rischio dell'ERV così come vi ha detto Rinaldi prima vale a dire che prendano l'oro tutte le nostre cose seminali abbiamo il rischio che ci vogliono far pagare la disoccupazione che ha la casa abbiamo il rischio che ti vogliono far pagare col treno perché così sale il PIL facciamo salire PIL aumentando il tram allora dato che il rischio è questo in questo caso il vostro vicino di casa che vota il PD dovete guardarlo con occhi un po' differenti fino adesso erano diverse opinioni e va bene costui danneggia anche te digli di smettere io con questa consapevolezza vi saluto e soprattutto prendete per tutti i discorsi sull'euro c'è il mio libretto siamo a 350.000 scopie scaricate le potete prendere lì fuori quindi qualsiasi dubbio ce l'avete andate sui social network che troverete delle risposte molto più molto più sincere rispetto a qualsiasi altra cosa vi viene detta andate a rivedervi se volete se vi interessa se è la prima volta che sentite queste cose e non avete internet chiedete a un nipote di farvi vedere le tappe precedenti in particolar modo vi suggerisco quella di Treviso secondo me di quelle che ho dette dove un po' di cose vengono sistemate e per vostro tramite io ringrazio veramente tutti 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 quelli che ci hanno fino adesso ascoltato che hanno avuto questo coraggio di rompere un tabù di dover entrare dentro in un posto dove c'è un simbolo di partito io mai fatto sinceramente quasi mai andato a sentirmi argomenti che avessero un che lontano sintomo sentore politico sia che fossi di destra che di sinistra me ne stavo a larga andavo alle mie conferenze e così questo tipo quindi chi ha voluto entrare in una sala per una volta e sentire qualcosa da parte di politico e di economico con anche un simbolo difficile in certe regioni d'Italia è stato coraggioso fino adesso quasi tutti non si sono lamentati e quindi chi ha avuto questo coraggio deve sentirsi fiero di se stesso perché significa che ha fatto spazio rispetto a tanti pregiudizi che ci sono stati e ha voluto cominciare a prendere in mano il proprio futuro perché la democrazia passa dalla conoscenza quindi vi ringrazio e mi raccomando non si cede un centesimo non si riposa non solo fino al 25 ma fino a che non saremo liberi grazie